Ciao ragazzi bentornati a questo nuovo video Oggi chi esce dal cerchio rosso perde 1500 euro E qui... guarda ecco lo sapevo che hai centrato No non ci vedo Adesso devo spiegare per bene perché Perché in pratica ragazzi il cerchio rosso che abbiamo appena costruito Devo tipparmi anche da te Sei stato un po' stupido ma ad amarci in questa situazione Adesso vi faccio vedere Il cerchio ha dei blocchi invisibili in alcune parti In altre no Quindi noi dovremmo essere furbi a far cadere il nostro avversario in uno dei lati giusti Chi cade per 5 volte perde e l'altro vince 1500 euro E con quei 1500 euro sblocca il Gauss Rifle Ovviamente all'interno del chest abbiamo anche tante altre armi per il fight E chi arriva a 10 di morti perde e chi ne fa 10 vince 3, 2, 1 Vediamo io voglio assolutamente quel Gauss Devo sperare di farti cadere inutinati Vieni qua Vieni qua Marmi No Sono rimbalzato No Nothing personal 1 a 0 siamo comunque Perché quella di prima io non la conto 1 a 0 Io quella di prima non la conto Ti avviso Dai che Sei rimbalzato? No che rimbalza No Mannaggia Preso di sorpresa il buon Marci Ottimo ragazzi Ottimo 2 a 1 2 a 1 Va bene raccontiamo No Grazie Non so se hai notato ma ho preso uno spigolo dell'angolo Neanche proprio l'angolo giusto Guarda come mi Oh Si 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 Che mi sono rimbalzato Mi sono tornato su Mi sono tornato su No ragazzi No peccato che non avete la mia visuale No Vai giù e torna su No no Marci Non so se hai visto Ma io sono rimbalzato tra la chest Perché dietro No No perché dietro la chest C'è un altro blocco Perché la chest è avanti di uno Cosa stai facendo? Candici No No Non ci credo No Siamo insicati tutti entrambi 5 a 2 Ho vinto Si ma la tua non vale Siamo 4 a 3 Siamo Siamo 4 a 3 Che barba Ok No 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 ma ti sono passato Ti sono passato attraverso E' tutta questione di ping ragazzi Vabbè ragazzi Marci ha vinto il 6500 euro Vabbè Eh cosa devo fare Vabbè io mi prendo le mie armi Io le prendo di dentro Partiamo Con le nostre bellissime armi Abbiamo tenuto lo stick Ti vedo che sei dentro Ah Ragazzi Calma Ci sono rimasto molto male Perché siamo già 1 a 0 Con calma Allora Dove sei andato? No No vabbè ragazzi Colicia Dai Il Gauss Vabbè L'accetto L'accetto E' sceso Ti ho visto Ti ho visto Marci Aspetta Ti sparo Ti sparo un po' di colpi di Grim Reaper Perché secondo me sei in quelle zone là E potrei colpirti di Grim Reaper Dove sei andato? Non ti vedo E non Guardatelo quanto usa bene il Grapplin Ma che fuga Ma che fuga ha fatto Marci oggi ragazzi No 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 Via Via No Oh mio Dio E' colpa del pollo che si è messo davanti E' colpa del pollo Lui si fa saltare in aria Io scappo No Scusatemi Non volevo filare così tanto ragazzi Davvero vi chiedo perdono No Ancora di quel coso lì Venga giù dottore Sì va bene va bene Dopo domani mi colpisce da lì in fondo col gaule No Marci Non si fa Al volante Io sto scendo Tu cosa fai? Stai scendo Io sto allo spawn ancora Sono appena spawnato Sì Sto scendo e vedo lanci di Grapplin Non è di Grapplin Di Rocket Come se non ci fosse Ragazzi Adesso mi metto lì E me la gioco super mega impegnato Ma mi stai distruggendo io sempre in sta mappa Cosa devo fare? Non ti vedo neanche Eh ma perché questa è la mia mappa Ah ecco Quindi non sono abituato Dici Dove sei? Eh sono un attimino Lontano da te Non ti ho proprio visto Non ti preoccupare che ti spawn Ero sopra la tua testa dove sei spawnato Aspetta che scappo un pochino Perché sennò siamo troppo vicini Adesso sto qua mi colpisce da dietro No Mi aspettavo da Marci di essere colpito da dietro Vediamo Spider-Man Spider-Man È partito lo Spider-March No No Eh lo sapevo Quando parte lo Spider-March ragazzi È la nostra fine Allora io ho letto un commento di un ragazzo Chiamato Fabio qualcosa Non è il buon Fabio ragazzi Il nostro amico No 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 ho provato il double barrel No Ma perché mi deve ricaricare Ma è matto No Aspettate che si ricaricasse il pompa 6 a 2 ragazzi 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 Eh tu cosa Ma dai ma come fai a venermi addosso a questi che c'ho il ghost life Eh ma non mi aspettavo che me lo usassi da così vicino Comunque io stavo parlando con il nostro amico Fabio Ok nei commenti di un tuo video Un tuo video mi ricordo Ok Sì nel tuo quando tu hai detto io faccio Spider-Man Ha detto che è giusto che io non che lo faccia Ma sono una vo- Ma cosa? Sono volato giù dalla mappa Come sei volato giù dalla mappa Sei morto? Perché io sono più bravo di te Ah sì certo Dove sei Marco Marco Io non ti vedo sicuramente Me ne andavo Ma guardate che è invincibile Oh Eh vabbè Eri invincibile Eri Eri invincibile Una volta Ok Calma Voglio provare a fare questa cosa qui Ce la farò Ce la posso fare ragazzi Provare a fare un trick Vuoi provare Sì ce l'ho sul 2 il Gauss Ma non è mica Fortnite Via Ti vedo Fermi eh Perché bisogna salire su questa casa Non salgo più su questa casa Calma Dai infiltrator No L'infiltrator ragazzi è un'arma che non riesco più a utilizzare purtroppo Niench'io Niench'io È troppo lenta Non so Sembra che sia depotenziata Una battaglia di rocket Fuga Ecco come sempre Guarda dove è finito in un millisecondo Là in alto Mi miri Mamma mia Marci Sei pericoloso Con quel Con quella Stavo per dire Con quell'arma ragazzi È troppo pericoloso Sto ragazzo 9 a 4 Ma ha fatto di quelle kill Di Gauss Che sono incredibili Ma dove è Sento spari di Mach Spari attenzione Ci sono spari in alto Ma guarda come scappa Ragazzi è incredibile Vediamo se mi vedi Sì che ti ho visto Sei sull'albero Ma che Non stai scherzando Sì che ti ho visto Mi hai sparato il coso Il rocket Da là in alto Ma come no Ora mi vedo La stai vedere No no Stai lì Guarda in alto L'ha scritto Sì ti vedo Là in alto Sei Sì non ti arrivano Neanche i colpi Sì però il Gauss Arriva Ci hai provato No Non muore Ok 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 9 a 5 Devo usare almeno un'altra arma Devo usare Almeno un kill di Mach Devo fartela Io te l'ho fatta con tutte le kill No Col Mach E con la pistola Non me l'hai fatta Ma non ho capito questa cosa La pistola l'ho proprio eliminata Allora 9 a 6 Mi manca una kill a me C'ho fatto una kill Sì a te mancherebbe anche una kill Esatto Te manca una kill Dove sei? Io sono giù te Io sono vicino allo spawn Se posso ricordarti dove sei allo spawn Magari dove solitamente tu Scegli le tue armi dell'equipaggiamento Non ti vedo però Ora ti ho visto Ok Ora ti ho visto Per bene Ti ho visto ragazzi 9 a 7 9 a 7 A noi non ci piace questo recuperone di Marco Recuperone di Marco qua ragazzi Dove sei però? Perché tu hai il Gauss Che è un'arma che da lontano fa Fa faville Ah Eccolo l'album armi Eccolo 9 a 8 Da dietro Ci siamo ragazzi Ne mancano due per me E una per lui Lui ha il Gauss però Vieni vieni un attimo Dove devo andare? Vieni tu vieni Dove? Meno 58 81 49 Ti sto aspettando Vieni un attimo Ciao Vieni Ciao 9 a 9 La gestiamo su 9 a 9 Ah non sei caduto Sei sul grappling Cosa stai facendo? Ti sento la tastiera Non cosa stai facendo? Io niente No Non sei morto Io non sto facendo niente Marci cosa stai combinando? Mi spieghi perché stai facendo il pendolo Sotto la mappa Perché voglio cercare di andare nell'isola di Spawn No No Sì Sull'erba Io sono dove spugniamo solitamente Eh sì sì anch'io guarda Ma dove? Non ti vedo Non hai visto il Gauss in alto? No Ma come no? No non vedo niente io Io sono qua dai sole shulker solite Ma guarda che non ti sento che ti stai usando anche tu il grappling Ma sei impazzito? Sto camminando Loro lo vedono Guarda in alto Guarda in alto Ah ora vedo il Gauss Ma sei l'è in alto? No no sono in basso Ma no sei all'isola in fondo Si è caduto Non ci è arrivato Ho fatto un save zio Che mamma mia Suggero la mia visuale No ti giuro Eh è tutto così clamoroso Quest'ultima chiglione Non riesco a tornare su Come sei Marco? Eh io te l'ho detto Sto girando tutta la mappa In lungo e in largo Perché io ho paura che tu sia In realtà Arrivato nella vera isola Non allo spawn come prima Però non ti vedo Ho appena sparato A meno che tu non sia Quell'ombra di fumo Eh eccolo qua No Non ci credo No ragazzi Se succedeva questa cosa Era la cosa più grande del mondo Ho superato di velocità Hai superato di velocità Ma sei caduto quasi Nel stesso punto In cui sarebbe caduto Il rocket No 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 Marco Marco Hai fatto la mia cosa Che non dovevi fare Io avevo finito il rampino Io avevo finito il rocket Non ci credo Io avevo finito il rampino Pazzesco Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se ne volete un altro Fatecelo sapere Con altre armi Sempre col cerchio Da Marchetto Da Marchetto Ciao Ciao Ciao